Pomeriggio di presentazioni in casa WL che allo spazio Conad del Rossini Center ha ampliato la conoscenza di due dei nuovi stranieri a servizio di coach Repesa, Dejan Kravic e Vasilis Ciaralan Populos. Kravic, centro serbo-croato classe 1990 di 2,13 m, dopo tre stagioni in Spagna, è tornato in quell'Italia che aveva già assaporato a Bologna nella stagione 2018-2019. Chi mi ha convinto a venire a Pesaro? In realtà nessuno ci ha pensato il fascino di poter giocare in una lega competitiva come quella italiana, perché dopo aver giocato tre anni in Spagna volevo riprendere un certo tipo di livello in un campionato come questo, soprattutto in una squadra come Pesaro che ha grandi ambizioni dopo la crescita di risultati che ha avuto l'anno scorso. Quindi era la scelta più giusta in questo momento della mia carriera. Dopo una stagione in Italia divisa fra Venezia e Fortitudo, l'ala 25enne greca Vasilis Ciaralan Populos arriva a Pesaro esternando piena consapevolezza dei suoi mezzi. So passare bene la palla, so gestire bene i blocchi e mi ritengo un buon tiratore. Preferisco giocare da tre ma mi adatto a giocare anche da quattro. Il mio idolo? Già dal numero di maglie si può intuire che sia Larry Bird, un mito con cui sono cresciuto, osservandolo da piccolo, ma che mi ispira ancora oggi.